Questa mattina nel corso di un semplice ma intenso incontro presso la sala di rappresentanza della Curia Vescovile della Spezia, la questore Lillia Fredella accompagnata da una rappresentanza di tutte le sezioni locali della Polizia di Stato ha incontrato il nostro vescovo Monsignor Luigi Ernesto Palletti. Nel corso dell'incontro la dottoressa Fredella ha consegnato al vescovo un ampolla di olio ricavato dalla coltivazione degli ulivi nel giardino della memoria di Capaci, teatro dell'attentato della mafia al giudice Falcone e alla sua scorta. Il giardino curato dall'associazione Quarto Savona 15, sigla radio dell'auto di scorta del giudice Falcone ed animata da Tina Montinaro, vedova del capo scorta, raccoglie diverse piante d'ulivo, ciascuna dedicata a una persona delle istituzioni caduta per mano della mafia. L'iniziativa della consegna dell'olio da benedire nel corso della messa crismale del giovedì santo è promossa a livello nazionale dalla Polizia di Stato che ha diffuso in tutte le diocesi italiane questo segno di speranza, di legalità e di ricordo delle vittime di mafia cadute nell'adempimento del dovere. Al termine dell'incontro un piccolo ma significativo omaggio della locale questura al nostro vescovo, un agnello pasquale di cioccolata come augurio sincero di una santa Pasqua. Dottoressa, dal giardino della memoria di Capaci un ricordo per i vostri colleghi, per il sacrificio che hanno compiuto ma anche un grande messaggio di speranza nel dono di quest'olio. Sì, è proprio il messaggio che dalla questura di Palermo hanno voluto condividere con tutte le questure d'Italia, cioè l'olio estratto dalle olive che crescono dietro il luogo della strage di Capaci, consegnarlo ai vescovi di modo che potesse essere benedetto. Ecco, eccellenza, l'olio da inserire insieme agli altri oli che verranno benedetti nella messa a Crismale, sono davvero un segno di speranza che accompagnano tra l'altro i momenti salienti della vita di un cristiano? Sì, decisamente, perché sono l'olio che viene utilizzato per il battesimo, poi il Crisma che viene utilizzato per la confermazione e anche per l'ordinazione e l'illunzione degli infermi quando c'è l'ultimo combattimento, diciamo, e mi sembra che veramente sia un segno grande, segno di solidarietà, segno di legalità, non indifferente, e anche una grande memoria per coloro che con la vita garantiscono, hanno garantito e continuano a garantire la nostra serenità.